Cosa mettere in valigia prima delle vacanze tra i nostri integratori di scelta? Saccharomyces perché capita spesso che cambiando ambiente, cambiando clima, veniamo a contatto con virus, con batteri, che il nostro organismo non è in grado di contrastare e tante volte capitano spiacevoli fenomeni o virus gastrointestinali. Saccharomyces riesce comunque a prevenire, a contrastare spesso e a moderare quando succedono questo tipo di episodi. Enzimasic. Enzimasic capita tante volte di mangiare cose diverse, ci vanno alimenti diversi o anche chiaramente cambiare le nostre abitudini alimentari. Enzimasic preso prima dei nostri pasti aiuta comunque ad assorbire, a digerire meglio quello che noi introduciamo. Melatovil. I nostri biorittimi vengono sfasati, cambiano le nostre abitudini, cambiano i nostri orari. Melatovil riesce a permetterci quello che è una ripresa, un ripristino di un nostro sonno ristoratore.